Buongiorno Crotone, siamo stati chiamati da un gruppo di cittadini che abitano nel centro storico e mi hanno chiesto, signora Regalino, il centro storico è un centro importante per Crotone o è il centro dei rifiuti? Perché come vedete bene, nonostante più volte sia stata pulita questa zona si continuano a lasciare gli ingombranti. Chiaramente questo non fa che riflettere tutti quanti e dire ma Crotone che città è e soprattutto visto lo sforzo che la CREA sta facendo per evitare di avere questi ingombranti e queste situazioni, credo sia giusto da parte nostra come cittadini di avere rispetto delle regole. Lasciarli così a bella vista e soprattutto pensando che questa è una zona importante che racconta la storia di Crotone e voglio dire perché, perché essere così indifferenti al rispetto delle regole. Buongiorno Crotone. Grazie 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 Grazie